Ho bisogno di un indizio per stupire Babbo Natale. Le tradizioni più magiche e colorate del Natale mi aspettano in giro per il mondo. Uh, eccolo! Nel paese in cui andrai ho imparato a fare Kung Fu nella foresta di bambù. Kung Fu, bambù, andrò in Peru. Eccoci finalmente arrivati in Peru. No, siamo in Cina! Ah, giusto il bambù, il Kung Fu. Uh, io sono Coconut, piacere. Ti chiami? Dicciade. Lo conosci chi è il capo, quello che gestisce il Natale? Babbo Natale. È proprio lui, proprio lui che mi ha mandato a cercarti. Ma tu gli hai mai cantato una canzoncina? Io sono, 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 ma tu la sai costruire l'albero di Natale? Sì. Fammi vedere come si fa. Hai voglia di conoscere le tradizioni del Natale in giro per il mondo? Sì. Allora vieni con me, che ti porto prima a conoscere una persona molto speciale. Ora tocca a te, raccontami la tua tradizione di Natale. Ti aspetto sui social e nelle piazze. Sto arrivando? Ho, 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 ho.